Riconquistata la scena con il decreto Dignità e 5 Stelle insistono e rilanciano ora il reddito di cittadinanza e il taglio alle pensioni d'oro. Al momento la Lega lascia fare ma l'assenza di ieri di Salvini al Consiglio dei Ministri rappresenta molto più di uno smarcamento. Il provvedimento approvato non piace a quel mondo della piccola e media impresa da sempre bacino di voti per il carroccio, soprattutto nel nord-est. E critiche severe al decreto Dignità arrivano proprio dal presidente degli industriali di Vicenza che in un'intervista al Corriere della Sera dichiara il governo mette il bastone tra le ruote, mentre per Forza Italia il decreto rappresenta un colpo mortale per imprese e commercianti. L'alleanza giallo-verde comunque tiene ma il punto di equilibrio resta sempre la figura del ministro dell'Economia Tria. A lui il compito di valutare la presenza delle necessarie coperture finanziarie. E dinanzi alla Commissione Bilancio di Camera e Senato il titolare del di Castero di Via 20 Settembre illustra nel suo esordio le linee programmatiche del governo. In più occasioni Tria ha manifestato prudenza e non si è mai sbilanciato sulla fattibilità dei singoli provvedimenti presenti nel contratto di governo. In Europa Tria ha ribadito la volontà dell'Italia di mantenere gli impegni presi e ha rassicurato sulla tenuta dei conti pubblici.